ed eccoci qua di nuova domenica insieme rispetto al talk di prima cambiamo completamente registro e vogliamo raccontarvi una storia perché quando ho letto un libro che raccoglieva 100 pensieri 100 ricordi felici di tante persone me ne ha colpito uno ed è quello di chiara valentini una motociclista pilota ma anche conduttrice televisiva e la sua storia è meravigliosa e oggi voglio che la racconti lei insieme a tutti noi quindi io saluto subito la mia ospite chiara valentini con il suo compagno emiliano buon pomeriggio grazie per essere qui insieme a noi a domenica insieme allora chiara io parto da te insomma raccontaci la tua storia perché appunto tu sei appassionata di moto ma non solo tu gareggi e sei una pilota anche molto brava e importante allora sì io ho una grandissima passione per le due ruote nata tardi tra virgolette insomma intorno ai 18 anni e a livello sportivo ho provato le mie prime esperienze sempre tardi sui 30 anni però è sicuramente una passione che per un breve periodo di tempo è diventata anche un lavoro per me e ora si è trasformato diciamo non sono più lato pilota a livello proprio professionistico ma aiuto gli altri magari a diventare piloti a chi vuole intraprendere questa carriera assolutamente sì infatti va beh tu hai avuto comunque diverse vincite a un certo punto come mi raccontavi ti sei fermata ti sei fermata per un infortunio vuoi raccontarci poi come è stato anche a livello psicologico questo dover fermarsi non per tua scelta in una disciplina che comunque ti portava davvero tante vittorie anche immagino soddisfazioni soddisfazioni tantissimo è per me il weekend di gara è un mondo parallelo al mondo quello reale normale quello che normalmente facciamo tutti dal lunedì al venerdì ero durante le prove di qualifica per una stupida scivolata ho avuto una lussazione alla spalla fortunatamente avevo già vinto l'europeo mi mancava l'italiano cosa che però non sono riuscita a tenere proprio perché questo infortunio mi ha seriamente danneggiato la spalla e non riuscivo più a essere competitiva come prima quindi tra l'altro abbiamo anche delle immagini la nostra regia stiamo in maiolatesi proprio di te in queste moto meravigliose che appunto in genere sembra quasi più uno sport maschile ma correttimi se sbaglio ecco eccole qui eccole qui meravigliosa qui era un momento di concentrazione concentrazione quindi quando tu sei concentrato ti metti in quella posizione ma tra l'altro è veramente un sport veramente pericoloso o ce lo fanno credere? ce lo fanno credere allora ovviamente hai a che fare con la velocità con la potenza quindi sicuramente è uno sport a rischio ciò nonostante hai tutte le protezioni che ti possono servire per correre in totale sicurezza è molto più pericoloso come dico sempre a tanti ragazzi andare in giro su strada con uno scooter 50 anche solo andare a 50 60 km è molto più rischioso piuttosto che correre a 300 km in pista perché ovviamente lì hai un abbigliamento tecnico obbligatorio sono tutti a tua disposizione in caso di scivolata cosa che ovviamente ci sono delle regole ben precise e vengono rispettate quindi loro cercano di fare il massimo poi gli incidenti capitano come capitano in tutti gli sport rischiosi con gli sci o l'esempio col pattinaggio per tanti anni artistico a livello agonistico tutto accade e adesso invece il bello perché questo momento di stop è quello che poi ti ha permesso di conoscere Emiliano esatto io per quattro anni appunto mi sono fermata e non sono più rientrata in un circuito proprio perché comunque ne soffrivo di questa allontananza finché un giorno mi sono decisa a riprendere una moto e a iscrivermi a una gara a novembre quindi quando non c'era nessuno proprio perché non volevo pressioni o altro per vedere a che punto potessi riprendere avevo scoperto che in quella stessa gara c'era un motociclista un pilota che avrebbe partecipato lui senza una gamba e quindi la cosa mi ha fatto molto riflettere ho detto cavoli io per quattro anni mi sono levata la possibilità anche se le prestazioni non erano più le stesse però di perseguire la mia passione e c'è un ragazzo senza una gamba che invece va e si iscrive e quindi è stata l'occasione per conoscerlo perché sono andata a fargli comunque complimenti e da lì poi ci hanno chiamato per fare una gara insieme come nello stesso team come Endurance quindi è una gara di durata in cui i piloti si scambiano ed è nata l'idea, la sua idea di creare un'associazione che potesse dare l'opportunità a ragazzi come lui con disabilità fisica di ritornare in moto perché stava dimostrando che ci si riusciva benissimo quindi ho sposato il progetto e non solo e abbiamo iniziato a fare tutto quello che facciamo oggi con la nostra associazione e abbiamo anche qui delle immagini, scusami se ti interrompo, delle immagini di Emiliano nelle sue in moto come è nata questa tua passione invece Emiliano? ma io la passione per la moto l'ho sempre avuta infatti già prima dell'incidente facevo delle gare e in più utilizzavo la moto anche in strada ecco ti e proprio, eh sì, qua era proprio l'inizio e proprio in strada è stato dove ho avuto l'incidente l'incidente che mi ha compromesso, mi ha portato all'amputazione di una gamba però è stata allo stesso tempo uno direbbe, no, come ti fai male in moto e vuoi ritornare in moto? sì, perché è un po' una chiusura di un cerchio è stata proprio la passione della moto a permettermi di superare il mio problema di superare la mia disabilità se io riuscivo a ritornare a guidare una moto, un pista a 250, 300 km orari tutte le difficoltà che avrei incontrato con la mia disabilità normalmente tutti i giorni sarebbero sparite perché sarei andata a fare una cosa molto più complicata e questo è stata proprio una grande vittoria perché sono ritornato a un moto, è stato bellissimo ho conosciuto Chiara e da lì è nato questo fantastico progetto che in questi anni ci ha permesso di riportare in sella oltre 400 ragazze disabili wow, tantissimo la moto in qualche modo vi ha dato, però vi ha tolto e poi vi ha dato di nuovo perché vi ha fatto conoscere quindi un po' torna sempre nella vostra vita sì, posso aggiungere che oltre a farci conoscere noi e due ci ha fatto conoscere tantissime altre persone innamorate di questo mondo della moto e tante persone che ognuna poi ha la sua storia tutti i ragazzi che vengono pressoché da incidenti stradali e sono riusciti a rialzarsi in piedi e tornare in sella oltre alla moto anche in sella proprio alla vita grazie alla passione per questo sport i vostri occhi parlano già e vorrei far parlare un video che voi mi avete mandato e quindi lo guardiamo insieme e poi lo commentiamo qui in studio abbiamo sempre problemi di regia oggi è la prima quindi a volte ci sono degli ingrippi tecnici però ricordiamo il nome dell'associazione a questo punto l'associazione è Diversamente Disabili D, D, D.D.D.C D, ok perché comunque uno dice aspetta, ma non è Diversamente Abili il nome? Sì, diciamo che vediamo un po' L'avete giocato un po' su quello Molto bello in realtà perché vogliamo vedere la disabilità in una maniera diversa e già il fatto che pratichiamo tutti i nostri ragazzi motociclismo con qualsiasi disabilità anche i ragazzi in carrozzina amputati le braccia o altro fa vedere che vedi la disabilità in una maniera diversa in una maniera più positiva in un modo che ti permette comunque di riprenderti in mano la tua vita io penso che sia veramente molto difficile perché poi è come se uno pensa sempre che succeda agli altri poi quando accade a te uno si domanda perché è accaduto a me questa cosa però tu sei un bellissimo esempio perché oltre appunto che sorridi e soprattutto hai cercato veramente di risolvere il tuo problema con quello che è stato il tuo problema e quindi voglio chiederti quanto tempo ci hai messo per risalire su una moto quanto tempo proprio come dire l'introspezione serve forse troppo poco perché sette mesi dopo il mio incidente riero in circuito e un anno esatto dal mio incidente un anno e un mese riero a gareggiare insieme ai normodotati veramente sei un esempio per tutti noi stiamo solo a guardare io che rinnovo alla mia regia se c'è il video quindi lo mandiamo subito cioè ce l'abbiamo guardiamolo grazie a tutti 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 e allora è un bel progetto quello che abbiamo visto in questo video che è la mototerapia del quale voi vi occupate grazie a tutti usiamo la moto come detto prima per tutte le cose la moto può portare felicità spenseratezza anche in situazioni molto difficili molto difficili in situazioni dove i ragazzi non possono magari guidare una moto ma li facciamo diventare protagonisti lo stesso del mondo moto perciò andiamo negli ospedali lì alcune immagini erano del gemelli qua di Roma andiamo in alcune piazze d'Italia a fare mototerapia ovvero mettiamo in serra ragazzi con varie disabilità, ragazzi autistici, ragazzi con la sindrome di Down, non vedenti e crediamo che sia per noi un'emozione grandissima, sembra che siamo noi che andiamo a fare qualcosa per loro ma è l'inverso, sono loro che ci arricchiscono di tantissimo, ci fanno provare veramente delle emozioni incredibili. Incredibile, ma tu quindi Chiara, in qualche modo entrando in questo mondo a te da prima conosciuto ti ha arricchito tantissimo oltre ad aver trovato l'amore che forse è anche la cosa più bella in assoluto. No, mi ha fatto conoscere il mondo della disabilità che ovviamente quando non sei a contanto con questo mondo lo vedi sempre con un alone di tristezza un po' distaccato e guardi sempre appunto le persone con una disabilità come se fossero inferiori o, permettimi il termine, un po' sfortunate perché hanno una disabilità e quindi e invece soprattutto poi il mondo sportivo è un mondo sicuramente fatto di sofferenza però la sofferenza poi ti aiuta a reagire veramente a un gran coraggio. Quindi è un mondo che ti insegna tantissimo e sembrerà strano ma è un mondo pieno di sorrisi pieno di affetto reale e concreto, insomma ho imparato tanto in questi anni da loro proprio a affrontare la vita quotidiana. Non c'entra niente con la disabilità, proprio è un insegnamento di vita quotidiana. Beh, guardandovi i sorrisi si vedono nel senso che ci crediamo davvero. Voi mi avete mandato delle immagini meravigliose di un cane e adesso le guardiamo subito perché ci chiedevamo appunto chi fosse questo cagnolino. Eccolo qui! Chi è lui? È lui e lei. Lei è Sofì, come vedete appunto anche lei è diversamente disabile perché ha tre zampe. E' un cane tripote che abbiamo voluto prendere come mascotte dell'associazione ma soprattutto per dimostrare e dimostrarci ma anche se noi oramai eravamo consapevoli che anche un cane con tre zampe può fare qualsiasi cosa. L'unica limitazione è che si stanca un po' prima ma corre, salta, è un cane a tutti gli effetti come tutti gli altri. Insomma, fa la guardia allo stesso modo, la barra forza anche di più. Sì, esatto. A voi piacciono le sfide, quindi direi che la vostra vita è una continua sfida, l'avete fatto anche con Different, giusto? Sì, esatto. Questo nuovo progetto ovviamente dalla mente diabolica, io la chiamo di Emiliano. Perché lui non si ferma mai, si vede, no? No, no, ma ma anche adesso sta pensando a qualcosa che può nascere. Sì, prendere da qui come scudo. Esatto. Eh, vabbè, credo che nella vita è fondamentale alimentarsi di sfide perché sono l'unica cosa che ci possono far migliorare e vedere dove possiamo arrivare, no? Se non ci sfidiamo non sappiamo le nostre potenzialità. E di differente una nuova sfida, ovvero, quando si parla di disabilità spesso si parla di barriere architettoniche, si pensa alle scale, ai marciapiedi, al parcheggio delle macchine e altro. E ci si dimentica una cosa con cui tutte le mattine, quando si salse, tutte le sere, quando si va a letto abbiamo da confrontarsi noi persone con disabilità, ovvero come vestirsi. Spesso dobbiamo andare, scegliere o la comodità o magari l'eleganza o l'essere vestito in po'. Vediamo un secondo le immagini che ce l'abbiamo, che l'avete mandate, quindi tanto io le chiedo, le chiamo. Perché voi avete creato questo brand. Sì, vai Chiara. È un brand che appunto è una linea di abbigliamento per ora, che punta a risolvere i problemi a chi ha disabilità fisica. Eccoli qui. Eccoli qui appunto. Tutti i nostri capi sono studiati per chi ha disabilità fisica importanti anche. Quindi ad esempio le nostre camicie hanno bottoni calamitati, ci sono delle cerniere che vanno dalla caviglia all'anca di tutti i nostri pantaloni, perché comunque chi ha una protesi come lui, infilare dei jeans è veramente tanto complicato. Quindi diciamo che voi avete veramente... In effetti puntate il focus su un tema del quale nessuno ci aveva mai pensato. Invece a vestirsi... Sì, in qualità siamo tanto, siamo tanto, tanto indietro, insomma, ecco. E però sono necessità quotidiane queste, ecco. Certo, assolutamente. Quindi io direi che la vostra storia è una storia bellissima. Bellissima. Noi siamo contenti. Bellissima. D'amore, da quanto tempo state insieme? Davvero, da averne parlato. Quasi dieci anni, insomma. L'abbiamo fatta di queste cose. Avevo paura che direte se sei troppo. No, no, l'amore è l'amore. Ne abbiamo parlato prima di coppie, cose. Vediamo, esatto. Di coppie e chi? Che scoppiano invece i coppie che stanno insieme. È un bellissimo esempio che, appunto, l'amore vince su ogni sfida. Io vi ringrazio ancora. Grazie. Grazie a voi. Vi ringraziamo per essere qua con noi. Noi cosa facciamo? Ognine pubblicità. Noi adesso ci fermiamo, ma tra pochissimo torniamo, perché restiamo su questo solco. C'è un tema di attualità molto importante. Molto importante. A tra poco.